Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Torna all'allerta meteo gialla per temporali sulle zone B, D ed E da mezzanotte alle 15 di domani sabato 21 luglio. Una saccatura presente sulla penisola iberica in lento movimento verso Levante pilota una serie di impulsi perturbati sul nord Italia che interesseranno anche la Liguria in questo fine settimana. Il dettaglio, oggi venerdì 20 luglio, nuvolosità variabile con addensamenti di nubi basse localmente associati a qualche piovasco, schiarite più ampie sugli estremi della regione. Tra il pomeriggio e la sera aumento dell'instabilità con possibili rovesci o temporali in particolare sui rilievi di centro ponente in locale estensione alla costa. Venti deboli o moderati meridionali, locali rinforzi nel pomeriggio sui rilievi e versanti padani, mare poco mosso in aumento fino a localmente mosso in serata ponente, temperature massime in diminuzione lungo la costa intorno 28-29 gradi nell'interno tra 26-28 gradi. Domani sabato 21 luglio l'ingresso di un'onda depressionale sul Mediterraneo favorisce un aumento dell'instabilità con possibili rovesci o temporali localmente forti sul centro della regione fino al mattino. Nel pomeriggio probabile nuovo sviluppo di temporali sui rilievi in locale estensione alla costa di centro ponente in serata. Venti tra deboli e moderati meridionali con locali rinforzi da sud-est sul centro levante al mattino, temporanea rotazione da nord-nord-est a ponente, mare tra poco mosso e mosso al mattino in calo fino a generalmente poco mosso dal pomeriggio, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 21-24 gradi, nell'interno tra 16-21 gradi, massime stazionarie lungo la costa tra 27-29 gradi, nell'interno tra 25-27 gradi. Dopodomani, domenica 22 luglio, una successione di impulsi perturbati determina ancora condizioni di spiccata instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi. Fenomeni più probabili sul centro levante fino al mattino, mentre dal pomeriggio i temporali saranno più concentrati sui rilievi, con possibile estensione alla costa di centro ponente in serata. Venti inizialmente deboli, in prevalenza settentrionali, in successiva rotazione dai quadranti meridionali, deboli o moderati con locali rinforzi da sud-ovest sull'imperiese, da sud-sud-est a levante. Mare inizialmente poco mosso, in aumento a mosso, localmente molto mosso in serata levante, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 21-23 gradi, nell'interno tra 17-19 gradi, massime stazionare lungo la costa tra 26-28 gradi, nell'interno intorno a 26-27 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it, sulla pagina Facebook di Arpal. Buon fine settimana a tutti!